Anche io mi aspettavo... Anche se è un artista, eh? Il Moro Paganica. Infatti però sta alla seconda sconfitta, quindi sicuramente qualcosa c'è. E come diceva Gian Lorenzo, noi oggi sì, abbiamo vinto 2-1, è stata partita molto combattuta, ma non è che ce la siamo giocati così facilmente. Io ho fatto i complimenti al mister del Monticchio perché noi ci siamo andati di fronte a una gran bella squadra, che giocava bene, poi ecco, D'Andrea ha fatto la differenza lì in attacco, ha fatto la doppietta, noi ci siamo difesi bene e alla fine abbiamo portato il porto. Poi ci racconta anche come esulta D'Andrea, perché ogni giocatore va in trance agonistica, ogni attaccante ha il suo modo di esultare. Un presidente, un presidente, è solo un presidente. La bolista se ne va, la bolista se ne va, la bolista se ne va. Vittoria Vici! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti